Buonasera a tutti e a vostro Pecheme, oggi andiamo a parlare e analizzare il nostro Palermo che non abbiamo portato nessun contenuto per ora ma analizziamo in questo video e analizziamo soprattutto anche i colpi di mercato e soprattutto analizzeremo le amichevoli che Palermo finora ha giocato è veramente un Palermo che bisogna dare soprattutto attenzione e sarà secondo la squadra che darà a Fiora Torci in questa Serie B vi ricordo che questa Serie B sarà piena di sorprese come Sampidoria, Sarnitana, Sassuolo, Palermo, tante 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 sorprese ma parliamo soprattutto del nostro Palermo, un Palermo che secondo me dopo queste quattro amichevoli ci aspettavamo veramente questi risultati ci aspettavamo questa emozione, abbiamo iniziato con un allenatore che era Dionisi e quindi il Palermo soprattutto ha iniziato da un punto centrale che è l'allenatore che è quello che deve indirizzare questi giovani e questi giocatori Bruno Ori soprattutto ha giurato fedeltato tutto a Palermo, il nostro capitano c'è da difendere, da portarlo fino in fondo è un giocatore che ci sta dando tante emozioni e che sicuramente ci darà emozioni in questa Serie B ma parliamo soprattutto dell'amichevole dell'Osford che veramente mi è piaciuta come ha giocato e come si è comportato tutto il Palermo, una formazione che se andiamo a vedere è stato veramente che ha giocato Blin, giocatore preso da Lecce, Gomis, Diagritè, Di Francesco, Thomas Henry, Insigne, Lund, Nettercerau, Nicolao, Ranocchia e Vazic vi ricordo che il Palermo ha fatto tanti acquisti, ha fatto l'acquisto con Thomas Henry, ha preso l'allenatore Dionisi, ha preso Gomis, ha preso Blin, ha preso Nicolao giocatori veramente di grande stazza e che secondo me possono portare in questo Palermo tanta tanta qualità un Palermo che vi ricordo che se andiamo a vedere su tutte le partite dove andiamo a giocare il Palermo prima di tutto vi dico tutte le squadre che ci sono in Serie B, le squadre che ci sono in Serie B c'è Brescia, Bari, Cesena, Spezia, Pisa, Frosinone, Mantua, Modena Mantua vi ricordo il Modena, Cittadella, Cremonese, Sassuolo, Juve Stabia che è una nuova promossa, il Nitana, Sud di Tirol, Cararese, la Cararese, la Reggiane, il Catanzale, la Sampdoria, il Palermo e il Cosenza è una Serie B dove vediamo tante squadre di grande profilo come il Frosinone, il Pisa, il Bari vediamo anche le retrocesse come Saranitana, Sassuolo che sono quelli che il Palermo deve concentrare e deve portare massima attenzione ma parliamo di questo Palermo tutto in un riassunto molto molto importante, è un Palermo che secondo me dobbiamo dare fiducia perché squadre devono temere questa squadra dopo queste tre vittorie molto importanti che sono amichevoli però ha giocato contro il Monza, contro il Leicester, contro l'Osport mi aspettavo una vittoria ma contro il Leicester e il Monza, squadre veramente che sono salite nelle Premier League, il Leicester e il Monza lo troviamo in Serie A, squadre di alto livello rispetto a un Palermo hanno più esperienza e mi aspettavo un pareggio sotto il Monza, poi è arrivata la vittoria con Di Francesco poi è arrivato il gol dell'1-0 con il Leicester è un Palermo che mi è piaciuto come si muove, mi è piaciuto tutto come è messo in campo mi piace anche il portiere a disposizione e gli acquisti sono stati fatti, sono stati acquisti veramente mirati e che secondo me possono portare a questo Palermo tanta qualità e soprattutto tanta continuità è un reparto offenzialmente ricco che bisogna soprattutto assolutamente ora fare i fatti in campo mi aspetto tutto tanto da queste prime partite del Palermo mi aspetto di vedere un bel Palermo contro il Parma in Coppa Italia dopo il Coppa Italia mi aspetto il 16 agosto mi aspetto una partita bellissima contro il Brescia poi abbiamo il 24 agosto contro il Pisa e il 27 agosto con la Cremonese infine abbiamo l'1 settembre contro il Cosenza quindi queste quattro partite mi aspetto un Palermo vivace, un Palermo in forma Dionisi ha parlato tutta nella conferenza stampa ha detto che stiamo crescendo ci piace tutto l'organico che c'è all'interno di questa squadra io mi aspetto tanto da questo Palermo e come mi aspetto io tanto penso che vi aspettate tanto anche voi tifosi rosa e nero vi invito sempre a iscrivervi al canale lasciate un like sulla campione del stagione dei contenuti Palermo veramente ricco di qualità abbiamo fatto tanti trasferimenti abbiamo anche ceduto come acquisti abbiamo fatto abbiamo preso Di Bartolo Francesco Pierozzi abbiamo preso Blinna abbiamo preso Henry abbiamo preso Gomis abbiamo preso Nicolao poi abbiamo preso il 29 giugno abbiamo preso Corona Giacomo il 29 giugno abbiamo preso anche Peta Damiani dalla Juventus sono giocatori molto molto importanti quindi vorrei vedere una reazione mi aspetto tanto quest'anno rispetto all'anno scorso e spero di andare in Serie A perché il Palermo in questa squadra deve assolutamente andare in Serie A quindi occhio a Palermo ragazzi occhio soprattutto alle avversarie per questo Palermo che sta dando dei segnali buoni e segnali veramente importanti fatete troversi i commenti il vostro parere a quanto riguarda il Palermo tifosi di Rosa Nera vi aspetto numerosi tutti attraversi i commenti e vi aspetto tutto numerosi tutte le like supportate questo video perché è importante farlo girare a tutti quanti perché dobbiamo sapere di che pasta siamo fatti e che non ci spaventiamo da nessuna squadra e che sicuramente ce la giocheremo in campo con tutte le squadre che faranno parte di questa Serie B bella ragazzi grazie a tutti